Ciao! Oggi sono da Luca, che ha dovuto chiamare l'Enel per far andare la sua pompa di calore. E oggi scoprirai perché. Eccoci qui, da Luca. Allora, siamo in centrale termica. Come ti accennavo nel titolo, ha dovuto chiamare l'Enel perché non aveva la tensione adeguata per far andare la pompa di calore. Ma di questo ne parlerò tra poco. Prima, visto che siamo già in centrale termica, volevo mostrarti come è stata realizzata. Allora, si tratta intanto di un'abitazione da 240 metri quadri circa, riscaldata con impianto a pavimento e qualche scaldaserviette. Però tutto lavora a bassa temperatura, ovviamente, per far risparmiare con la pompa di calore. È una pompa di calore monoblocco, che poi ti mostrerò esternamente. E qui l'installatore ha realizzato una centrale termica in uno spazio, direi, di 3 per 1 metro. Quindi 3 metri per 1 metro. Quindi ha cercato di incastrare il tutto nel più piccolo spazio possibile. Ovviamente garantendo l'accessibilità ai vari componenti. Come vedi, allora, abbiamo un bollitore da 400 litri, quindi un accumulo di acqua calda sanitaria, con serpentino maggiorato per poter far lavorare la pompa di calore. E un puffer di acqua tecnica invece da 200 litri. Qui invece c'è l'acqua del riscaldamento. Abbiamo la linea già coibentata, perché il collaudo è stato fatto già mesi fa, però per aspettare lei e i loro lavori, nel frattempo, sono già state isolate le tubazioni. Arriviamo dalla pompa di calore monoblocco, con la mandata, che va poi a dividersi in due circolatori, uno per l'accumulo tecnico e uno per l'accumulo sanitario. Come vedi, in questo momento stiamo facendo acqua calda sanitaria. Il ritorno poi in comune torna nella macchina. Alcune accortezze che mi piace fare evidenziare in questo video. Questa valvola di chiusura in caso di anomalia o di temperature esterne troppo basse. Cosa succede? Essendo una pompa di calore monoblocco, quindi ci gira acqua tra la macchina e l'accumulo tecnico o sanitario, potrebbe essere che, in caso di guasto dell'Enel, blackout dell'Enel, per 4, 5, 10 giorni, cosa impossibile però, non si sa mai nella vita, e temperature esterne molto molto basse, quindi sotto lo zero, potrebbero ghiacciarsi le tubazioni verso fuori. Con questa valvola automatica, cosa succede? Quando le temperature scendono troppo e manca la corrente elettrica, viene chiusa la valvola e viene scaricato l'impianto con una valvola automatica a molla esternamente. Quindi questa valvola automatica ha all'interno un bulbo che misura la temperatura e se vede che si è sotto i 3 gradi e succede un'anomalia, fa scaricare la parte di impianto tra accumulo tecnico, o meglio, tra valvola e pompa di calore. In questa maniera si evita che le tubazioni ghiaccino. La macchina ha comunque le sue protezioni all'interno per il ghiaccio. Ad esempio, sotto i 2 gradi, il circolatore gira lo stesso anche se la macchina è spenta, in modo da mantenere sempre l'acqua in movimento ad evitare che si formi cristalli di ghiaccio. Oppure tiene una temperatura minima sopra i 20 gradi, appunto per evitare il fenomeno del ghiaccio. Un'altra accortezza di questo impianto è la realizzazione di questo collettore, un collettore ben fatto. Come vedi ci sono tre moduli di rilancio, due per l'impianto di bassa temperatura, quindi impianto a pavimento, e uno per l'alta temperatura di scala salviette. È tutto ben isolato e coibentato per evitare condensa, anche se nel caso specifico non facciamo raffrescamento a pavimento. Ma il cliente ha scelto di raffrescare con una macchina a parte, ad aria. Anche il collettore di tipo industriale vede che ha la sua eleganza ed è molto compatto. Questo possiamo dire che dal punto di vista tecnico vale e non vale, però dal punto di vista estetico, visto che è una stanza all'interno di una casa nuova, è molto importante. Poi valvole di sfiato ben messe nei vari punti, in modo da evitare spiacevoli sorprese se ci sono delle bolle d'aria all'interno dell'impianto, e quindi la macchina andrebbe in blocco. Adesso ti porto fuori a vedere la monoblocco. Prima però ti volevo raccontare la storia di Luca. Luca ha avviato la macchina tre mesi fa. Ci siamo accorti da subito che la tensione dell'Enel non era costante, seppur l'Enel diceva, no, tranquillo, c'è una pompa di calore anche dal tuo vicino. In realtà non era vero. Luca ha insistito con l'Enel e alla fine è riuscito a farsi fare i lavori. Dopo 50 giorni lavorativi l'Enel ha sostituito il cavo di 200 metri, portando da 35 mm di sezione a 70 mm. Infatti avevamo visto che il vicino a 5 metri aveva una tensione giusta e piuttosto alta, però era collegato su un'altra fase. L'altro vicino invece aveva la stessa problematica, così l'ha cambiato e Luca adesso ha 220-230 volt costanti senza nessun problema. Eccoci nella parte finale del video, come vedi questa è la pompa di calore messa all'esterno in giardino, collegata con i tubi isolati che portano in centrale termica che vista qui 4-5 metri. E con questo possiamo darci appuntamento al prossimo video per raccontarti una nuova storia.